Daniela Santancan ha detto fin dall'inizio che non vede l'ora di andare a spiegare tutto in Parlamento, spiegherà tutto in Parlamento e come sempre l'ennesima polemica strumentale della sinistra si sgonfierà come è successo fino adesso su tutto. Il suo non era un atto dovuto però? No, ma era un atto voluto. Ha dato fin dall'inizio la disponibilità, ha chiesto lei, se è detto pubblicamente tra l'altro, se viene chiesto vado volentieri e quindi questo sta accadendo. Il codice della strada invece in CDM sono uscite varie bozze, qual è il punto dei fratelli d'Italia? Riuscire a portare maggiore sicurezza sulle strade credo sia un'esigenza di tutti, poi ovviamente vedremo le norme del dettaglio, lavoreremo in Parlamento, però credo che l'impegno del ministro Salvini da questo punto di vista sia incommiabile e sia da ringraziare a parte tutti gli italiani, anche da genitore che ha i figli che crescono e inizia ad avere l'ansia per quando cresceranno un altro po' perché ovviamente è una tragedia molto seria, presente su cui nessuno si può girare all'altra parte.